Ilaria Marino, buongiorno Buongiorno Ilaria buongiorno Tu già senti i profumi Io sento i profumi Ma Ilaria tu pensavi che noi non lo sapessimo Ma noi ti vogliamo dire tanti auguri Perché è il compleanno Non abbiamo un mazzo di fiori Ma c'è un bel broccolo di compleanno Noi non ti abbiamo detto nulla Ma abbiamo fatto finta Grazie, grazie E allora io per ringraziarvi Vi svelo qualche segreto Noi siamo tutti orecchie Allora, questo poi volendo si può utilizzare Però oggi no Allora iniziamo con una zuppa Di castagne Funghi E zucca Perfetto Allora, come al solito io chiedo l'aiutino, va bene? Allora, l'aiutino lo diamo anche al nostro pubblico con gli ingredienti Perché vi occorrono, secondo la ricetta Segreta è di Ilaria Marino 800 grammi di zucca 200 di castagne 200 di funghi Mezza cipolla Parmigiano Olio Sale Rosmarino E vale semplice semplice, facile facile ma gustosa Gustosa E come sempre tu però mi hai dato delle dosi Ma io ti dico anche no Perché lo sai che andiamo con quello che abbiamo E certo Allora, se intanto uno di voi mi aiuta Vai, vai, vai Vado io Allora Adadini la zucca Io invece lo faccio con i funghi Per cui io ho due padelle In una metto a cuocere i funghi Tu ce lo vuoi l'aglio meglio di no? Ma a quest'ora del mattino facciamo anche senza l'aria Ti do una mano grazie Vai Giacomo Allora, senza aglio Noi andiamo con un po' d'olio senza aglio E andiamo a rosolare i funghi In questa padella qui Allora, noi tagliamo i cubetti Giacomo Questa è una ricetta Sì, vado Giacomo stai facendo i cubetti Tanto guarda E dopo gli diamo una Una rifilata Una frullinata quindi Insomma anche grossi Va bene? Pure lì a gusto Ti piace un po' più sentire il pezzetto nella zuppa? Un po' e un po' Un po' e un po' Brava Io pure un po' e un po' Ma diciamo che la cucina e in aria Spesso ci insegnano anche a non sprecare nulla Quindi apriamo il frigorifero Facciamo la zuppa autunnale Ma ci rimane qualche Usiamo anche quello Insomma tutto quello che abbiamo non va sprecato Bravissimo Tanto è vero che le castagne che ti ho detto Erano quelle che mi sono avanzate ieri Che uno ne Sono buone, ne faccio tante Però poi alla fine Uno è un po' pieno E allora il giorno dopo le ricicliamo Ilaria, siamo bravi come aiutanti? Bravissimi Allora, io vado Non sento gli applausi sugli aiutanti Scusate da quell'altra parte dello studio Grazie Oggi Allora, io qui invece intanto metto Della cipolla che ho già tritato Così non piangiamo in diretta E certo Se non già mi avete fatto commuovere così Basta Eppure la cipolla è un po' troppo Sempre con un goccio d'olio E dopo ci mettiamo A cuocere la zucca Fino che con la forchetta Io verifico che è morbida La zuppa è qualcosa che viene definito anche comfort food Adesso si usa tanto questo modo di dire Cioè quel cibo che fa bene al cuore Fa bene all'anima Anche che fa tanto casa È bene perché è un bellissimo colore Quindi già mi ha dato tanta allegria Guarda Guarda abbiamo fatto Vado con la prima fornata Guarda ma ti do pure questa Io continuo a tagliare Tu vieni qui Vieni qui Io intanto giro i funghi Vai 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 Che non si deve sprecare Niente eh Neanche questo pezzetto Vai È volato Un pezzo grande Andiamo anche con questa E l'aria Perfetto Facciamo insaporire un attimo Ma è una catena di montaggio Una catena Guarda Cioè come è un po' di la zucca in mano Allora giriamo i funghi Catena di montaggio Giriamo la zucca La faccio insaporire con la cipolla Bene Aggiungiamo dell'acqua O del brodo a piacimento Diciamo circa due dita sopra il prodotto Sì E lascio cuocere circa mezz'ora Una mezz'oretta Sì sì Vieni vieni Ancora facciamo un tempo Ce li buttiamo dentro Mi spraghi gli avanzi E cioè gli avanzi non si buttano E lo dico io che Avanzi lo faccio di cognome Questa è una ricetta diciamo Che salva tutto quanto E quest'oggi Ilaria Che è particolarmente in vena Ci proporrà anche dei consigli E un'altra cosa Da fare nel frattempo Che si cucina la zuppa Certo Non ve la anticipiamo Perché dovete rimanere con noi Io ho una domanda Ma la zucca Per conservarla Possiamo anche congelarla? Assolutamente sì Ma già tagliata a cubetti? Brava È meglio Perché così dopo la usi Direttamente congelata in padella Quindi già pulita dalla buccia E possibilmente tagliata Anche in maniera grossolana Noi la congeliamo E la possiamo mettere direttamente in padella congelata Perfetto Anche perché Devo dire che una volta scongelata Tende a disfarsi un pochino Ma tanto noi dopo la frulliamo Facciamo una zuppa Quindi va benissimo Ilaria ti possiamo lasciare per qualche minuto? Faccio danni Dividi Dividi Va bene Ci vediamo fra poco Ti lasciamo qui al tavolo Noi ci spostiamo Sì già Siamo tornati in cucina Grazie Siamo tornati in cucina Ma è talmente tanta la voglia di tornare in cucina E di assaggiare le cose Che torniamo Giacomo Oggi una tavola coloratissima Proprio autunnale Abbiamo l'arancione della zucca I funghi Le castagne I broccoli Un tripudio proprio di autunno Esatto A che punto siamo Ilaria? Mentre io finisco questo Guarda ho frullato intanto la zucca Dobbiamo unire i funghi E un po' di castagne Guarda ti faccio vedere Come schiacciamo le castagne Le castagne sono bollite Castagne bollite Se me ne prepari qualcuna gentilmente Ci portiamo avanti per la ricetta di dopo? Come no Come no Allora io do già qualche indicazione Tu ce l'hai Ilaria Come no ce l'ho Perché nel frattempo Come nelle nostre case Si mette a sobollire la zuppa A fare quella E poi si fanno altre cose Altri spazi Anche nel nostro studio Venne così E perché non preparare una bella insalata Con i profumi d'autunno E allora vi occorreranno 250 grammi di broccoli 250 grammi di cavolfiori Due mele 100 grammi di nocce Due arance Olio, sale, pepe, limone Quanto basta Ma al quanto basta Naturalmente si può ampliare A tutta quanta la ricetta Perché Ilaria ci insegna Vedete un po' che avete nel frigo Anche perché sono prodotti Ilaria Che abbiamo un po' tutti Nelle nostre case In questo periodo Quindi forse qualcuno da casa Ci sta già Gli abbiamo dato un suggerimento Per il pranzo di oggi Tu intanto mi puoi fare a dadini una mela Perfetto Poi se abbiamo delle mele Che sappiamo la provenienza Ok del contadino Possiamo lasciare la buccia Ben lavata Come la preferisci Come la preferisci tu E allora andiamo con questa Anche tutta, due Dipende da quanti siamo a mangiare Io intanto Mi fermo Ho aggiunto Alla zucca che abbiamo fatto prima L'abbiamo frullata Ci ho aggiunto i funghi Sì Una parte E un pochino di queste Castagne Castagne Perché abbiamo detto C'è proprio l'autunno Adesso la membra E guarda Con due Aghetti di rosmarino Se mi passi Rosmarino Andiamo a finire Proprio gli ultimi due minuti Di insaporire il tutto Prima di impiattare Va bene? Ecco qua Giacomo come va con la mela? Come avevi detto A fettino o a dadini? A dadini Perché lì dopo Penso che sia Più comodo Mangiare a dadini Perché è un'insalata Quindi faremo Una cosa fresca Diciamo Però utilizzando Come al solito Quello che abbiamo In questa stagione Io ho avanzato Un po' di broccolo Romanesco Un po' di cavolfiore Sempre restati Poi li metto a freddi Allora Qui lasciamo insaporire Gli ultimi minuti E ci siamo quasi Ci siamo quasi Qui c'è qualche altra Castagna Qui ho perfetto Ma ci servono anche per dopo Perché decoriamo il tutto Magari faccio io Così non vi macchiate Un arancio Che metterò sempre Nell'insalata Allora Queste le tengo per dopo Un arancio Non c'è più l'arancio Spadito l'arancio Ma ti va un limone E allora prendo il limone Bravo Con quello che abbiamo Chi si è mangiato un'arancia E fuori che venga Chi ha mangiato le nostre arance Che fanno gli scherzi Qualcuno ci ha fatto lo scherzo Allora Ovviamente Il limone È un attimino Più forte dell'arancio Quindi ne metterò Veramente poco Ok Questo è anche Per chi a casa In questo momento Non avesse l'arancia Può mettere il limone Ma sì Una clementina Sempre Sempre Proprio Il famoso gubì Con quello che abbiamo E quanto basta Ecco Io lo sto pulendo Della parte bianca Ma io non posso tagliare nulla Ma evitiamo di macchiarci Che dici Guarda se vuoi tagliare Una mela rossa Qua ci sono pure quelle rosse La vuoi? Mi voglio rendere utile Non so stare ferma La catena di montaggio Continua nella nostra cucina Perché Ecco Allora Mi immagino anche chi sta a casa Fra famiglie Nonni, nipoti Eccetera È bello stare insieme È bello condividere Allora guarda Io il limone Lo sto preparando piccolo 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 Perché Chiaramente È un pochino più forte dell'arancio Abbiamo detto Però Non ci sta male Anche perché L'utilizzo per il condimento Dopo Quindi l'ingrediente È sempre quello Ti metto qua le mele Perfetto Allora Giacomo sei stato bravissimo Ma io vorrei far vedere I cubettini che ha tagliato Giacomo No veramente Tutti precisissimi Io sono maniaco Su queste cose qua Giacomo Bravissimo Guarda Ci metto tanto tempo Ma Come l'insalata La finiamo dopo Ci metto un po' di limone Se non ne riscono Ma quanto sei bravo Sono più bravo a mangiare No che sei bravo anche a cucinare Ecco Quanto trovo quello duro 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 Mi aiuto con la forchettina Piccoli segreti in casa Se il limone è un po' più asciutto Perché Ecco così Eccolo qua Nel frattempo abbiamo detto Che hai Per questa insalata Si prevede anche Il cavolfiore Giusto? Esatto Cioè io avevo Il cavolfiore Che è quello bianco Questo che cos'è? Vediamo E' il broccolo Che tipo di broccolo? Romanesco mi sembra Bravissimo E' questo che mi hai regalato E' quello siciliano Allora studiato Non c'è cui E beh insomma Ilaria Marino viene da tanto tempo Quindi qualche cosa Me la sarò imparata anch'io Quindi giustamente Anche perché Questa è pure la ricchezza dell'inverno Uno pensa all'inverno E' tutto quanto morto Invece anche dal punto di vista Dei cavoli e simili C'è tantissima ricchezza Un po' rossa Non litigano Non litigano Vai insieme Ricorda che dobbiamo fare Anche un po' con l'occhio Dobbiamo mangiare E' vero E' vero Eccoci qua Quasi tutto pronto Grazie Allora Per dopo che dobbiamo preparare ancora La mela è pronta La mela è pronta Gli avanzi di questo Tiriamo fuori per impiattare Cosa ti serve? Ci vediamo dopo? Lo vediamo dopo Sì Anche perché Io mi bevavo Sì ci teniamo pronti per dopo Tanto facciamo tutto quanto con calma E sistemiamo anche un po' Perché andiamo in pubblicità Ma ci prepariamo Eccoci qua Perché portiamo tutti quanti a teatro A vedere uno spettacolo di magia Di luci Di gravità Di volo Che prende il nome di Back to Mobics A fra poco La nostra Ilaria Che invece fa danzare Gli alimenti autunnali Ilaria E' vero Ilaria come? A che punto siamo? Troppo bello guarda La nostra Moses Pendleton della cucina Ilaria Marino Mi piace Sai questo accostamento Molto Anche perché c'è un tripudio di colori Di colori autunnali Allora Facciamo ordine E ripartiamo Danzare mentre si cucina Eh sì Allegria Questi colori Ci stimolano E quindi Io impiatterei Però prima di impiattare Perché da casa ci stanno seguendo E sono sicura che qualcuno sta Si è perso No Gli abbiamo dato un suggerimento Per il pranzo di oggi Allora Per vedere se stanno procedendo bene Io vorrei ripartire dalla ricetta Del primo piatto Sì Che è la zuppa Giacomo ci aiuti tu? Una zuppa Certamente Allora Gli ingredienti Li vedete in grafica Zucca Castagne e funghi Voi vedete la grammatura Ma seguite anche i suggerimenti Naturalmente di Ilaria Di non considerarla Bezza cipolla Parmigiano Olio Sale Rosmarino Quanto basta E pane E questo E quindi È il risultato Abbiamo Cotto i funghi Rosolato la cipolla E cotto la zucca Frullata la zucca Unita parte dei funghi Profumandoli con Un po' di rosmarino E le castagne Lessate Ok? A pezzettini poi A questo punto Noi andiamo A impiattare Ma che bella che è Va mangiata calda Tiepida Come cosa ci consigli? Come si assaporano Allora io ancora Tutto questo freddo Da mangiare caldata Calda calda No È buona anche Temperatura ambiente Ambiente Quindi possiamo prepararla Anche un po' prima E lasciarla riposare un po' Esatto Allora Mettiamo sul piatto Poi Ci mettiamo A decoro Un pochino di funghi Che abbiamo utilizzati No? Giacomo Tu sai impiattare bene? Diciamo che Preferisco fare altro Che impiattare Lascio fare Volentieri Poi A Ilaria Abbiamo detto Sono un po' più russico Io nell'impiattare le cose Che una sbriciolata Ancora di castagne Che è un sapore Un pochino più dolciastro Ci mettiamo la castagna Centrale Una spolverata Di formaggio Questo sempre A gusto personale Che formaggio abbiamo messo? Allora io ho messo Un pecorino Perché non ho salato prima Quindi il sapore Lo dà il pecorino Pure qui Quello che abbiamo E un attimino Sempre perché Noi abbiamo detto Mangiamo con gli occhi E comunque L'abbiamo utilizzato Un tocco di colore di verde E questo Ecco pronta Ci manca una cosa Ci manca una cosa Mettiamolo qua Sulla nostra tatina La firma Un filo d'olio Extravergine Adesso lo possiamo mettere sul podio Perfetto Ecco qua Il primo piatto È servito E adesso La zuppa è troppo calda Vi rinfrescate Con l'insalata Per cui vi serviranno Broccoli Cavolfiori Mele Noci Arance E naturalmente I condimenti Olio, sale Pepe E limone Quanto basta Io vi passo Intanto Questi ingredienti Da iniziare a mescolare Che mettiamo qua dentro Sì Mentre io Preparo il condimento Guarda Se vuoi ti puoi aiutare Allora Giacomo Inizia a girare delicatamente Questi sono Questi sono Avevamo detto Questo è il romanesco Il broccolo romanesco E lo mettiamo qua Bravo Tutto Abbondiamo Questi sono i broccoli Cavolfiori Io metto sale Pepe Limone Le mele Le mele ci aggiungiamo Si Paglia il limone Te lo ricordi In tuo portale Vai Vai Giacomo Alle Mettiamo così Limone Noi facciamo una bella insalatona abbondante Olio Allora Eh? Questo ce lo mangiamo dopo Allora Non si butta neanche quello Non si butta nulla Se uno lo prende tre secondi Guarda Io ci metterei anche un po' di noci Le sbricioliamo Sbriciolate Posso farlo con le mani? Sì Devi farlo con le mani Allora Attenzione Questi sono proprio tutti gli ingredienti Che noi abbiamo in questo periodo A casa Esattamente Esattamente Ma c'è qualcosa che ci consigli Che in questo periodo Non può mancare nelle nostre cucine? Come verdura Come ortaggio Io mi farei mancare niente Tutto quello che la natura ci dà Non mi farei mancare niente Tutto Allora Guarda Arrivo con il limone Vai E giriamo Ilaria Comunque io sono davvero contenta Siamo contenti Sei venuta qui nel giorno del tuo compleanno Allora di nuovo Auguri Ilaria Grazie Non abbiamo una torta di compleanno Ma abbiamo una zuppa di compleanno Guarda la zuppa Ti faccio pure le orecchiette alla zuppa Ecco qua Ho bruscato E il tuo bouquet Ilaria Marino Il tuo bouquet Cuoca contadina ai col diretti Grazie per essere stata con noi Grazie Auguri ancora Grazie Ilaria Marino E andiamo a salutarci al centro del nostro studio Ma per poco naturalmente Perché sapete che dopo la messa ritorniamo E poi oggi è mercoledì Grazie Quindi sarà una lunga mattinata insieme Sì Una mattinata insieme Noi ci ritroviamo dopo la Santa Messa Grazie a tutti per teeth looking for momenti paranormal 처음ine e già nuova